Bentornati in questo nuovo video di pesca. Nel primo tuffo della giornata scelgo di eseguire questo aspetto, mi apposterò circa sui 17 metri di fondo e inizierò a fare qualche richiamo. Scorgo qualche bel sarago sulla sinistra, ma oltre a questi al momento non vedo nessun tipo di preda interessante. Dopo qualche istante decido di puntare quindi il sarago più grosso che incuriosito viene lentamente all'aspetto. Il tiro risulta facile e colpisce in centro il pesce. Dopo aver eseguito diversi aspetti su quella zona decido di risalire sul tender, accendere il motore e spostarmi in un altro spot. Dopo aver raggiunto la nuova zona, imposto subito il primo tuffo e inizio a planare. scendo quindi su questa pietra a 16 metri e mezzo di fondo circa e da lontano vedo subito questa corvina che staziona sotto il masso. Dopo vari istanti decido di non sparare alla corvina anche se è un esemplare di taglia. circa sul mezzo chilo di peso o più. Rimango quindi ad osservarla mentre staziona davanti al mio fucile. nella parte finale del tuffo però seguendo la corvina scorgo un bel cappone dalla parte opposta della roccia. decido quindi di ripetere il tuffo con il fucile caricato alla potenza minima per non danneggiare l'asta al momento del tiro. il tiro è semplice in quanto questo tipo di pesci rimane praticamente immobile. e qui vediamo il recupero dello scorfano dopo averlo soccolato. siamo giunti così alla fine del video se ti è piaciuto il video lascia un like e ricordati di iscriverti al canale. grazie ci vediamo alla prossima grazie a tutti